Ivanka aveva circa 14 anni e i suoi capelli erano blu. Ero in prima classe e i bambini in economia. Ivanka voleva fare un upgrade. Ho detto, quando puoi permettertelo, fai l'aggiornamento. Sono in prima classe, me lo posso permettere, tu in economica. Mi giro e c'è un ragazzo biondo con occhi azzurri. Mi dispiace tanto, mi dispiace tanto. Sono Donald Trump e vedo ragazze cercare il tavolo. Ho detto alla mia ragazza, ho una buona e una cattiva notizia. Qual è la buona notizia? Prenderemo un tavolo velocemente. Qual è la brutta notizia? L'individuo dietro di me si siederà con noi. Forse lo era, sai, ma non mi ha dato fastidio. Non voglio parlare di lei. È una showgirl, non ha mai raggiunto nulla nella sua vita. Beh, stava flertando. Intendo dire, penso che stesse flertando e che sia riuscita a farla franca senza avere alcun inconveniente.